Musica Arnon in uno contro uno con Vaporaki, si propone su ton di sinistro ancora Tornatori arriva Arnon, Arnon verso la porta si era attaccato sia al secondo palo sia al centro, Musumeci sempre al volo sempre nello specchio ma sempre Pietrangelo ma anche dall'altra parte con Galanna difendere, destro forte la trova Pietrangelo e poi è spindola poi ancora Lolo Suazo Richard si gira splendidamente Jefferson lavora bene il pallone col mancino poi attenzione tutto regolare il tocco indietro Danicic e poi l'errore con la grande parata di Bastini lo scarico per Parrella attenzione l'occasione la grande parata di Tiago Perez adesso De Oliveira entra in area Di Ponto le spinge salva il lido poi riparte Navarro fermato da De Oliveira che vuole un nuovo tentativo super riflesso di Di Ponto poi Leandro con una magia va via Leandro punta elastico Leandro fino a fondo e spindola poi Cutrupi in area di rigore si salva il Pesaro ma che giocata di Leandro calcio di punizione occhio al mancino di Guzzolino che va in porta di Ponto Parra due volte grande grande riflesso sulla conclusione ravvicinata di Taborda Poletto contro Onorio la testa del giocatore dell'Ital Service poi Lido recupera Poletto sul mancino e spindola e calcio ad angolo Canal Gattarelli saltato Canal Di Ponto respinge Sposito allontana Borruto trova un super riflesso di Di Ponto Salas si alza Lido a pressare Salas se ne va con una grande giocata Salas da solo mette in mezzo Don Rivera si esalta di Ponto che salva Lido occhio al pallone dentro Pina ad un passo dal gol dell'1-0 super risposta di Fabio Tondi lo scambio di prima occhio qui a Pina che recupera il pallone Tondi deve uscire a dire di no Guti occhio all'anticipo forte di Dimash dentro per Gripi Casassa super parata difende il pallone si appoggia su Ferretti Tondi in calcio d'angolo ancora Shaw Salla perfezionare questo recupero pallone per Wilde Ducci risponde ancora centrale Schininà qui in anticipo secco su Raubo spinge la transizione con l'esterno per Dimash sul secondo palo per Gripi cosa ha preso ancora una volta Casassa Ducci recupera sfera e posizione e fa correre Achilli dentro per Marzelinho ancora Casassa anticipato da João Salla occhio ancora easy buona questa chance Portuga dentro Ducci c'è due volte poi il pallone che esce per João Salla sta succedendo di tutto poi finisce Giussi gioca anticipo di Bissoni su Alex Bissoni arriva il tiro Marzio Gagno Alex sbaglia il passaggio Caponigro difficoltà sulla pressione di Arillo che gli strappa la palla Arillo grande parata di Dalcina poi Grasso prova il lob Tormena va al tiro colpisce il palo poi Foglia salva Bissoni la palla è ancora lì Bissoni ancora e poi riesce a salvarsi la fel di Eboli prova ad uscire dai blocchi Murillo lo fa va a calciare Murillo grande parata di Gagno bella la palla per Fernandinho ancora Grasso a rimorca il tiro di Grasso la parata di Dalcina e anche sulla ribattuta di Fernandinho Dalcina si fa trovare pronto alla fine la regala Dalcina riparte Murillo Dalcina sceglie invece Caponigro indecisione al centro dell'area tra Arillo e Marzio Gagno alla fine riesce a far sua la palla il portiere del Napoli ribatte Osian poi Murillo ancora Marzio Gagno a parare Selusio Pesca dall'altro lato per Murillo prova a mettersi sulla linea di passaggio Fernandinho la palla arriva comunque a Selusio Pesca forti al centro salva Gagno perde lo aiuta Selusio che imbuca per Bissoni ecco il tiro di Pesca si supera Gagno di Pesca di Pesca di Pesca di Pesca Grazie.